Ben fatto ragazzi, ma ora fate presto, i blocchi si stanno avvicinando ad Aelita Che aspetti allora? Chiamaci un taxi Sta arrivando Presto dormi Materializzazione del veicolo Ci siamo Ti vengono a prendere Aelita, che c'è? Cosa? Se ne è già andata? Aelita deve proprio avercela con noi Non è il momento di scherzare, ho perso Aelita dallo schermo Tu, allora pensi che... No, non penso, secondo me è solo scomparsa dagli schermi, come se... Aspetta Ma che sta succedendo? Ci sono Ricevo un segnale No, non penso, in un segnale No, non penso, in un segnale No, non penso, in un segnale Chiamati Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!